Ciao raga, ragionamento su Kizaru. Ma siamo sicuri che Oda terrà Kizaru come personaggio neutrale che si comporta in un certo modo e che obbedisce soltanto agli ordini? Come sappiamo ogni ammiraglio è associato a un animale e Kizaru è associato a una scimmia, ma non a una scimmia qualsiasi. Quella associata a Kizaru è la Kikazaru, che è palesemente un riferimento al nome stesso Kizaru. Nella cultura giapponese la Kikazaru fa parte di un trio di scimmie che derivano da una specie di storia e di leggenda. Vengono chiamate le scimmie sagge, un po' come le nostre scimmie della cultura del non vedo, non sento e non parlo, anche loro hanno questa cultura e questa storia ecco. Vediamo la Mizaru, che è la scimmia che non vede il male, la Kikazaru che non sente il male e la Izawaru che non parla del male. Certo, se dovessimo prendere un'interpretazione letterale non ci sarebbero molti collegamenti da fare con Kizaru, però se facessimo un'interpretazione un po' più logica potrebbero essere effettivamente delle caratteristiche stesse di Kizaru. Perché, come abbiamo visto, lui obbedisce agli ordini, non si fa domande, non chiede, non gli interessa se quel che fa è giusto o sbagliato lo fa. Invece abbiamo visto che gli altri due ex ammiragli, Aokiji, andato via dalla marina forse, e Akainu, diventato grande ammiraglio, hanno due visioni della giustizia opposte ma comunque ben definite. A Akainu la giustizia sommaria, quella del pirata è cattivo, va distrutto. Aokiji ha una giustizia un po' più delicata, se vogliamo chiamarla così. Per cui, sì, se sei cattivo sei cattivo e io ti punisco, ma se posso capire i tuoi sentimenti, le tue motivazioni, lo faccio anche. Invece lo stesso Kizaru non ha neanche, forse, un senso di giustizia autonomo, non ha un qualcosa dentro di sé che lo spinge ad agire. Invece gli altri due sì. Possiamo dire, non gli interessa se sia giusto o se sia sbagliato, lui lo fa perché gli viene ordinato. Però, che cosa potrebbe succedere se un giorno all'altro lui iniziasse a percepire davvero il male intorno a lui? Visto che la percezione del male non può essere assoluta e diretta soltanto verso una categoria, può essere una percezione personale. E se lui dovesse iniziare a percepire cattiveria e il male nella marina e nel governo, anziché nei pirati? Tanti parlano di una sottovalutazione del personaggio Kizaru in termini di forza, perché il suo comportamento ha fatto sì di non vederlo veramente all'opera o nel auto nerfarsi, chiamiamolo così. E quindi, un personaggio come Kizaru, che ha un potenziale, un frutto incredibile, che comunque è un ammiraglio e non può essere scarso, se dovesse percepire il male nella marina e nel governo, potrebbe essere un elemento chiave nel cambiare le sorti della guerra finale, di questa ipotetica e probabilissima guerra finale. Ma allo stesso tempo, se dovesse effettivamente davvero percepire il male nei pirati, quindi in Luffy e le persone che lo circondano, e diventare davvero un protagonista di quella guerra e quindi utilizzare tutto se stesso e non soltanto il suo corpo, ma anche la sua anima, il suo spirito, potremmo vedere un qualcosa di inaspettato e un qualcosa che sconvolgerebbe questa guerra. E quindi potremmo anche vedere un personaggio più spietato, in un certo senso, che potrebbe davvero far del male a qualcuno dei nostri beniamini. Non penso che Oda voglia tenere Kizaru il personaggio che è adesso, perché, come abbiamo detto, sì, fa il suo, lo fa bene, è forte, ma non è il Kizaru che probabilmente Oda ha scritto per il finale e non è neanche un personaggio tipico di One Piece. Se ci pensate, c'è sempre una motivazione dietro, un qualcosa che viene fatto, che sia buono, che sia cattivo, che sia giusto, che sia sbagliato. Quindi io sono estremamente curioso di vedere come inizierà a percepire il male il nostro Kizaru. E inoltre voglio ringraziare Yatora per avermi scritto, dato questo spunto interessantissimo, raccontato di questa analogia, perché è davvero, davvero importante, sapendo che Oda si basa su queste cose, probabilmente il buon Yatora ci ha preso, io ho fatto la voce narrante, ho messo un po' del mio, ma davvero un ringraziamento grandissimo va lui. Grazie a tutti.